Sicuramente è stata una partita molto tattica, contro una squadra il Napoli molto forte. Sapevamo che il dettaglio poteva spostare il risultato. Nel momento in cui siamo andati noi in vantaggio, sì, è stato importante finire la partita vincendo, però comunque abbiamo sofferto, negli ultimi minuti ci è venuto un po' il braccino, capita, può capitare in partite come questa, anche perché queste sono partite che valgono il doppio, i punti valgono sei, non tre, perché comunque contro un antagonista come il Napoli che ha l'ambizione comunque di essere protagonista nel campione italiano, potevamo fare meglio, però va bene così, siamo contenti. Stefano sta cercando di ritrovare la migliore condizione, sicuramente adesso sta aumentando anche un po' i giri a livello di intensità in allenamento e quindi sta tornando ad essere un giocatore a tutti gli effetti. Sì, bisogna continuare su questa strada sperando che sia anche un po' più fortunato e che non capiti più niente, perché ripeto, stiamo parlando di un giocatore che in un anno e mezzo ha giocato veramente pochissimo per l'Inter. Quando ha giocato, soprattutto all'inizio della stagione scorsa, l'ha fatto benissimo, ci ha abituato anche molto bene, però poi non l'ho mai più avuto a disposizione. Il fatto che stia riprendendo la forma migliore è sicuramente una buona notizia, però incrocio le dita sperando che ci sia un po' di serenità, di pace per lui, ma anche per me, perché significherebbe avere una freccia in più rispetto alla stagione scorsa e a questo inizio di stagione. Sì, è inevitabile che nel momento in cui ti viene a mancare Sanchez, e non dimentichiamo che l'anno scorso è mancato per gran parte la stagione, anche quest'anno, sia lui, anche Romelu, è mancato in diverse partite. Giocando con due attaccanti, avendone in questo momento tre a disposizione, se uno si infortunia diventa problematico. Pinamonti è tornato anche dalla Nazionale all'ultimo raduno, Nander 21, con un problema alla Caviglia che ancora non ha recuperato, però Pinamonti sicuramente stiamo parlando di un giocatore di grande prospettiva, per un ragazzo giovane, così come era esposito l'anno scorso.